Il Tribunale del Riesame di Salerno ha revocato la misura degli arresti domiciliari a Gustavo Giannattasio, sostituendola con quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'indagato è accusato di maltrattamenti e sequestro di persona a carico del fratello. Giannattasio, difeso dagli avvocati Vincenzo Speranza e Michele Santuari, è persona molto conosciuta a Scario, dove vive in compagnia della famiglia e dove tra l'altro possiede numerosi beni immobili, una quota rilevante dell'hotel Il Giardino. Lasciati da suo padre, emigrato in Venezuela negli anni 50, come tanti cittadini della località. Proprio gli interessi economici, alla base del contrasto con il fratello, dal quale, secondo la prospettazione della pubblica accusa, sarebbero scaturite le condotte oggetto di imputazione provvisoria. La gravità di indiziari aveva comportato l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere, eseguita lo scorso 8 novembre, successivamente sostituita con la misura degli arresti domiciliari, il successivo 12 novembre, in sede di interrogatorio di garanzia, nel quale la difesa, oltre ad offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, indicando negli interessi economici una possibile causa di intento calunniatorio, aveva prodotto una serie di indagini difensive, che già da allora avevano ridimensionato il quadro delle esigenze cautelari. Una vicenda che farà ancora discutere, tenuto conto gli ulteriori clamorosi risvolti, che potrà ancora presentare. Nei giorni in cui Gustavo era sottoposto alla carcerazione preventiva, il fratello Nicolás si sarebbe reso protagonista di un atto di sequestro ed abbandono di persone incapace, avendo lasciato chiusa a chiave per l'intera giornata la madre invalida.